Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo assaggiamo, come vedete dal titolo oggi è il momento di assaggiare queste patatine qui al gusto bistecca, esattamente vi faccio vedere da vicino come al solito la confezione, appunto vedete Ridge Cut Crisps al gusto appunto Grilled Stack, sono delle patatine di quelle un pochino rigate, quindi dovrebbero essere anche molto più croccanti rispetto alle altre dietro vi faccio vedere in velocità gli ingredienti e anche i soliti valori nutrizionali nel caso qualcuno voglia appunto dargli un'occhiata e sia interessato direi quindi di andare ad aprire il profumo è davvero molto particolare, ricorda un pochino una bistecca magari tipo di manzo messa bella sulla griglia, un po' al sangue vi faccio vedere che anche le patatine appunto ricordano quelle che ci sono disegnate sulla confezione andiamo ad assaggiare devo ammettere non pensavo che potessero sapere effettivamente di grigliata, di bistecca bella grigliata però mi hanno stupito per cui non mi resta far altro che consigliarvele assolutamente se le trovate detto questo ragazzi vi ricordo di lasciare un bel like e di commentare magari facendomi sapere se le avete provate e che cosa ne pensate se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi e attivate anche la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e come al solito vi dico have a nice life